Il Politecnico di Bari è un'università statale italiana che ha come finalità il trasferimento di conoscenze scientifiche e tecnologiche. Nato nel 1990, conta circa 12.000 iscritti suddivisi tra facoltà di ingegneria e facoltà di architettura. Il Politecnico copre sostanzialmente quattro macro aree di studio e ricerca. Le materie di base come fisica, chimica e matematica costituiscono le fondamenta su cui edificare l'edificio delle scienze applicate di natura ingegneristica e architettonica. L'area industriale interessa ambiti essenziali, connessi alla meccanica, alle scienze gestionali, ai sistemi per la produzione e distribuzione dell'energia. L'area dell'informazione raggruppa le discipline ingegneristiche che affrontano i temi dell'ICT, spaziando dai sistemi elettronici alle telecomunicazioni, dall'automazione industriale ai sistemi informativi e produttivi. L'ingegneria civile e architettura si occupa di progettare e concepire manufatti e infrastrutture destinati a tutti gli ambiti relativi all'edilizia, alla geotecnica, alle infrastrutture viarie e idrauliche, alla pianificazione urbanistico-territoriale. Le quattro aree sono profondamente interconnesse in un sistema preposto all'acquisizione e sviluppo di nuovi saperi che mirano a migliorare la qualità della vita e la qualità produttiva delle imprese destinatarie delle nostre ricerche. Il Politecnico diventa così fonte di idee per cercare soluzioni utili, ma soprattutto un referente competente a cui rivolgersi per ideare l'innovazione.